Allora salve a tutti amici, questo video è rivolto a Matteo Salvini. Ciao Matteo Salvini, io lo so che tu fai le cose buone, hai fatto le cose buone, non sto dicendo che tu non fai cose buone, però io dico pensa a dare i posti di lavoro da quelli che non ce l'hanno, che sono in mezzo alla strada, che hanno da campare una macchina, dare un aiuto alla famiglia, io ho già 47 anni, quando lo devi dare a 50 anni, 80 anni, 70 anni, non lo so, vedi tu quello che devi fare, che mi devo campare pure la macchina, io non posso stare qui si aspetterà ancora, Matteo Salvini. Lo so che fai le cose buone, però dico stringere, e le prime cose vengono nei posti di lavoro, dammi il risposto, un saluto.